Alvia la campagna informativa della ASL 1 in merito all'attacco hacker del 3 maggio scorso. Le analisi condotte da esperti informatici hanno consentito di individuare alcuni archivi di dati personali sottratti, quindi potenzialmente utilizzabili da soggetti non autorizzati. La violazione dei dati è stata notificata all'autorità garante per la protezione dei dati. La ASL sta provvedendo ad informare tutte le persone interessate e invita tutti gli utenti a prestare attenzione a eventuali richieste di contatto telefonico o email e sms inconsueti e in questo caso a sporgere denuncia alle autorità competenti. Tutti gli aggiornamenti saranno consultabili sul sito www.aslunoabruzzo.it nell'apposita sezione Informati insieme. È stato attivato inoltre un numero verde dedicato in cui operatori risponderanno per dare informazione agli utenti. Il numero è 800 169326. Il responsabile della protezione dati è inoltre contattabile all'indirizzo dpo.aslunoabruzzo.it